Nel giorno in cui il Green Pass diventa obbligatorio anche nei trasporti, voli aerei, traghetti, navi, treni, anche regionali, ma non trasporto pubblico locale, il Presidente della Regione Toscana inasprisce ancora di più le regole. Il Green Pass, affermato Gianni, sarà richiesto a breve in un sempre maggior numero anche di luoghi pubblici al chiuso. Insomma, il messaggio per gli ultimi riducibili Novax è forte e chiaro. Il mese di settembre è l'ultima spiaggia per scegliere di vaccinarsi. Prima, ha detto Gianni, di ulteriori serrate che andranno a colpire chi non disporrà del Green Pass. Il ragionamento di Gianni parte dalla variante Delta, definita pericolosa, perché è riuscita anche a vincere il caldo. Abbiamo avuto, ha detto, un estate con più contagi rispetto allo scorso anno. Entro il 30 settembre riusciremo ad avere l'80% della popolazione vaccinata. Oggi siamo al 74. Con un ritmo di 10.000 nuove dosi al giorno, arriveremo tranquillamente al 30 settembre, superando l'80%. La Toscana è quarta come numero di vaccinazioni di prima dose. Ritengo di citare questo dato con orgoglio, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. La vaccinazione deve essere il più possibile diffusa. Se non ti vaccini, diventi strumento del virus. Convincete, conclude Gianni, i vicini di casa. Convincete chi è incerto. Vaccinatevi ora, altrimenti dal 30 settembre starete a casa.